Siamo in direzione Siamo in direzione Allora, quali sono le grandi novità di quest'anno? La prima grande novità di quest'anno è quella di aprire la fiera tutti i giorni da sabato 30 novembre fino all'8 dicembre domenica dalle ore 10 alle ore 22 e 30 perché? Perché il pubblico è così tanto e il successo della manifestazione è così copioso che abbiamo immaginato e c'è bisogno che la gente possa anche visitare la fiera con un po' più di tranquillità Allora, aprire tutte le mattine anche nei giorni feriali diventa utile perché gli appassionati della fiera possono venire con più calma parlare con la gente, poter frequentare la fiera con più serenità Ovviamente ci sono tutti i servizi che già ben conosciamo Quindi tutte quelle distinzioni orarie che erano solite contraddistinguere questi giorni non ci saranno dal 30 novembre all'8 dicembre basta recarsi nei padiglioni della fiera Siamo nella fiera come sempre di Ropero dove però lo ricordiamo qui stiamo vedendo alcune immagini delle belle atmosfere che si possono trovare sono semplicissimi da raggiungere Sì, sono molto semplici perché la fiera di Milano di Ropero ha il grande vantaggio di essere come ben sanno il nostro pubblico direttamente sfruttabile attraverso la metropolitana proprio la fermata fiera Ropero oppure attraverso il passante ferroviario specialmente per chi viene da fuori Milano è una grande occasione quella di raccordarsi col passante e scende esattamente in fiera a Ropero oppure uno che vuole può venire in macchina chi ha bisogno anche di fare economia in macchina noi consigliamo vivamente di fermarsi a Lampugnano, Molino Dorino dove il parcheggio è assolutamente economico quindi con pochi euro uno può stare tutti i giorni è chiaro, poi compra il biglietto però nonostante tutto è più economico come voi tutti sapete comunque noi organizzatori come ogni anno facciamo una fiera con accesso gratuito e questo è uno dei punti di forza una fiera con 2.900 espositori a ingresso gratuito e con la possibilità di passare delle belle giornate questo perché è proprio importante per favorire da una parte il nostro pubblico e dall'altra i nostri espositori poter creare le miglior condizioni possibili di rapporto e di dialogo una fiera che al di là dei numeri già straordinari di tutti gli anni come sempre dà la possibilità ai visitatori di farsi un giro per il mondo con 113 paesi che vengono come sempre invitati e partecipano attivamente quindi davvero tra sapori, colori e profumi si riesce a girare il mondo in questi giorni ma sì, volevo leggere a riguardo noi attraverso i social network abbiamo domandato qual è l'esperienza più significativa che la gente vive in fiera c'è questa ragazza che tra l'altro mi piacerebbe conoscere che a un certo punto ha detto questo della nostra fiera che siccome descrive un po' il sentimento con cui tutti si stanno apprestando venire dal 30 novembre all'8 dicembre da noi e dice il miglior acquisto che si possa fare all'artigiano in fiera è acquisire la consapevolezza di quanto sia meraviglioso il mondo e stupenda, incredibilmente bella la vita visitare la fiera significa immergersi in terre vicine e lontane anche sconosciute significa avvertire sapori e odori nuovi intriganti, affascinanti significa conoscere persone stupende anche appartenenti a mondi e culture diverse significa danzare, cantare con l'anima e il cuore sì, perché per nove giorni tutto il mondo si concentra tra quei padiglioni per fare festa una festa alla quale siamo tutti invitati a partecipare con gioia, amore e rispetto una festa di colori, musiche, sorrisi e volti che possono, se ci lasciamo guidare dal cuore mostrarci quanto sia meraviglioso il mondo è stupenda, incredibilmente bella la vita ma che bello ma bella scritta questa questa è una lettera che vi è arrivata magari ci sta guardando, intervenga no no, anzi la sto ricercando perché mi piacerebbe conoscerla ma credo che questa sia la definizione proprio più chiara dell'esperienza che milioni di persone fanno visitandoci sono molto contento perché so che tanti aspettano questo appuntamento e quindi sarà un'occasione in più per vivere un po' di respiro e di positività in questa situazione così triste e grigia il bello però è che al di là di chi magari è più appassionato perché poi si dividono un po' i squadre quelli che vengono alla fira quelli che dicono io vado subito nella zona del mondo vogliono visitare magari o riprovare i sapori che hanno provato nei loro viaggi e chi invece è più tradizionalista resta nelle regioni italiane per esempio ho scoperto negli ultimi mesi di quanti sono appassionati alla Calabria per esempio vanno lì e allora prendono tutti i sapori e sono in tanti che fanno sì il vantaggio della nostra fiera è che è un percorso come dice esattamente questa ragazza che si può attraversare il mondo anche perché noi come voi sapete l'abbiamo rappresentata per territorio quindi la cultura della tradizione i sapori, gli odori le cucine sono espressività del territorio non dimentichiamoci che ci sono 54 ristoranti 5 punti di degustazione che permetteranno di stare delle giornate intere in fiera visitare il mondo, degustare stare insieme in questo clima di positività e poi c'è questa grande novità dalla fiera di Milano noi vogliamo aprire una sfida per i nostri piccoli artigiani per i nostri piccoli produttori in questo importante momento di crisi della nostra Europa rilanciandoli verso tutto il mercato mondiale attraverso questa nuova piattaforma e-commerce che è questo, questo make and buy magari riusciamo a far vedere il nostro tablet mentre raccontiamo ecco la presentazione è curiosa perché lascia intendere ma non troppo di che si tratta? si tratta di una piattaforma e-commerce che si chiama appunto makeandbuy.com in cui sarà possibile non soltanto per chi conosce la fiera ma anche per chi è da tutte le parti in Italia e vuole incontrare i nostri espositori ma anche per chi venendo in fiera vuole avere un rapporto continuativo tutto l'anno ma anche chi vive a Mosca a Londra ad Hannover a Barcellona poterli incontrare poter vedere i loro prodotti e acquistare per 365 giorni all'anno direttamente spedendo il prodotto a casa è una grande sfida è una grande sfida innovativa in cui io sono convinto che l'esperienza della nostra fiera che è l'espressione della bellezza e della bontà possa vincere davanti a tanta produzione industriale omologata insomma anonima e quindi i piccoli sono chiamati attraverso questa nostra piattaforma make and buy a sfidare il mondo con la bellezza e la bontà cioè si fabbrica qualcosa attraverso le mani c'è questa rappresentazione poiché molto chiara dell'artigianato e si compra attraverso internet quindi un mezzo che normalmente è freddo internet uno ci va magari per fare un certo tipo di acquisti qui si trasforma e diventa un'altra cosa diventa la fiera vissuta tutto l'anno e sarà possibile per chi viene quindi avere una continuità di rapporto ma chi è da tutte le parti del mondo e non può venire da noi è l'occasione per conoscerci e io sono convinto che nei prossimi anni questo permetterà anche da altre parti del mondo come già sta succedendo di venire da noi anche a vedere dal vivo i nostri artigiani quindi questo può voler dire anche per gli artigiani di avere una vetrina internazionale perché davvero internet non ha confini in più e quindi un incremento anche di lavoro e di chissà quante altre possibilità esattamente quindi lavoro in più che insomma in questo periodo non può che fare bene c'è una telefonata pronto sì io mi sono prenotato ma per parlare con l'intigietta che è lì di fronte la sentiamo la sentiamo bene buonasera dica deve parlare al telefono però abbassando il volume della televisione sì al telefono sì prego prego sì appunto la sento un attimino dica certo ecco qualcosa che volevo dire l'intigietta sì costa troppo la fiera costa troppo e in un periodo di crisi costa troppo come costa troppo è gratis scusi guardi che è gratis non si può far pagare non si può far pagare gli stand in maniera esagerata ah ho capito ho capito proviamo a rispondere perché l'ingresso è gratis certo l'ingresso è gratis quindi è un po' difficile esattamente questo è il punto la scelta che noi abbiamo fatto sin dall'inizio è permettere a milioni di visitatori di venire nella nostra fiera è chiaro che questo comporta da parte dei nostri espositori pagare un prezzo adeguato per avere questa grande possibilità d'altra parte i bilanci devono poter stare in piedi e quindi per poter fare un'iniziativa di questa complessità e a questo livello di promozione dall'altra bisogna creare d'altro canto il fatto che ci siano più di 3.000 espositori e molti in lista d'attesa smentisce questa considerazione che pur capisco ma un imprenditore deve sapere investire dove vale la pena investire perché sono sempre di più la cosa straordinaria è che sono sempre di più e voi avete messo un tetto a quanto sono riuscito a capire al numero degli espositori perché altrimenti sarebbero di più ma per far le cose fatte bene 2.900 è il massimo esatto anche perché noi intendiamo crescere soltanto per rappresentanza faccio un esempio in fiera da due anni viene una provincia di Guenzu che è una provincia cinese che non è mai uscita nella sua storia dell'umanità dal proprio territorio e da due anni che viene non sa neanche molti di questi che vengono non sanno neanche il cinese parlano solo la loro lingua dialettale ed è una cosa bellissima vedere che il rapporto si è staurato tra queste persone e i nostri visitatori quindi il nostro obiettivo è di crescere per qualità e non per quantità è chiaro che la nostra fiera è dedicata agli artigiani e quindi è a loro che ci rivolgiamo e loro che selezioniamo dal 30 novembre all'8 dicembre quindi siamo nei padiglioni della fiera dalle 10 del mattino alle 22.30 addirittura orario sempre uguale quindi la grande novità di quest'anno non si parla solo di oggettistica come tutti gli anni ma sono tanti i padiglioni e mi piace ricordarli perché si parla di giovani e design di moda di abitare tante cose in più sì perché abbiamo immaginato di cercare di dare un palcoscenico che permetta a dei fattori emergenti della nostra società in particolare con uno sguardo ai giovani di avere una possibilità di comunicarsi i giovani designer ormai da qualche anno che facciamo nel padiglione 4 è proprio data dall'intuizione di permettere a giovani neolaureati o non neolaureati che si mettono a volte insieme spesso sono ragazzi che si mettono insieme di poter rappresentare i loro prototipi le loro esperienze i loro prodotti per tastare quindi il mercato e per capire quindi se effettivamente il loro prodotto è buono è valido hanno buona risposta devo dire che le esperienze a riguardo sono entusiasmanti questo vale lo stesso per i sarti noi ci pregiamo giustamente di avere dei grandi designer della moda ma non dobbiamo mai dimenticarci che per diventare grandi stilisti della moda innanzitutto abbiamo avuto dei grandi sarti ora dare respiro ai giovani sarti emergenti significa creare anche qui le condizioni per dare una continuità nel futuro alla nostra cultura così vale per l'arredo lo spazio abitare la casa è uno spazio proprio immaginato per pensare a come poter promuovere un comparto decisivo poi in un periodo come questo come voi sapete la ristrutturazione della casa avrà come abbattimento fiscale non soltanto il costo della parte edile tecnologica ma anche dell'arredo quindi è un'ottima occasione per avere a prezzi assolutamente di vantaggio la ristrutturazione della casa ecco sono esperienze tutte esperienze che poi entreranno anche nel sito appunto dell'e-commerce makeandbuy.com e che permetterà quindi di dilattare la fiera non soltanto dal 30 novembre all'8 dicembre tutti i giorni dalla mattina alle 10 alle 22.30 ma anche tutto l'anno per 365 giorni bella questa iniziativa che torna questo di Giovani e Design dove è giusto mettere a disposizione un palcoscenico del genere si parla tanto di start up di magari aiuti per chi crea qualcosa di nuovo però poi questo qualcosa deve avere un senso ecco che allora avere una platea così straordinaria di persone che vengono a vedere il prodotto dà già modo di capire esattamente devo dire che ci sono delle esperienze fantastiche la cosa che mi piace molto e questa è una caratteristica di artigiano in fiera che negli anni in questi anni sta via via crescendo è l'aumento dei giovani c'è un passaggio dai padri ai figli o dal maestro all'allievo e dall'altra c'è questa riscoperta da parte dei giovani anche laureati che l'artigianato non fa parte della cultura del lavoro del passato ma fa parte della cultura del lavoro del presente e questo è molto importante perché capire questo significa introdurre una prospettiva forse di un'economia che sta cambiando che deve ritornare a essere a dimensione umana allora mandiamo una breve interruzione tra poco di nuovo con Antonio Intiglietta parliamo di tutte le caratteristiche di questa bella fiera che vede milioni di persone ogni anno in visita breve interruzione tra poco con Antonio Intiglietta parliamo di un grandissimo appuntamento quello dell'artigiano in fiera che vede milioni di persone ogni anno andare dal 30 novembre all'8 dicembre manca poco state davvero ultimando e la semplicità dell'arrivare alla fiera è uno dei punti di forza magari ricordiamo ancora bene per chi volesse anche comprare qualcosa di ingombrante perché no la facilità di portare a casa questi problemi la semplicità hai ragione è proprio quella di poter venire tranquillamente con la metropolitana alla fermata proprio di fiera Milano-Ropero piuttosto che col passante ferroviario molti che vengono dalla Lombardia o da fuori dalla fuori Lombardia facilmente si possono connettere al passante o chi viene in macchina può venire direttamente in fiera anche se noi vivamente consigliamo anche per una questione economica di parcheggiare a Molino Dorino e a Lampuniano prendendo poi per l'ultimo tratto la metropolitana questo fa risparmiare sapendo che la fiera è a ingresso gratuito e questo ovviamente noi lo facciamo per incentivare proprio la partecipazione che sappiamo essere di più volte durante i nove giorni in fiera dall'altra certo l'altro grande pregio della manifestazione è che uno può acquistare ma può anche decidere di acquistare un servizio artigiano in fiera express che permette di far spedire direttamente i prodotti magari quelli più ingombranti ma non solo direttamente a casa veramente con un costo convenzionato molto molto basso in più vi è quest'anno un'ennesima occasione importante in cui oltre a quello che immediatamente uno vuole comprare in fiera può direttamente comprare attraverso la nuova piattaforma che aprirà in contemporanea all'artigiano in fiera il 30 novembre che sarà attraverso questa piattaforma dei nostri artigiani che si chiamerà machandbuy.com che li metterà in condizione anche di prenotare direttamente ulteriori prodotti o se qualcuno magari ha dimenticato qualcosa da comprare e quindi a disposizione tutto l'anno la fiera si allarga in tempi in misure e anche in confini perché davvero diventa raggiungibile da tutti questo il promo della nuova iniziativa machandbuy.com dove sarà possibile fare questi acquisti e sarà un'apertura davvero straordinaria si parla ovviamente di numeri importanti tanto quanto quelli della fiera fiera che viene visitata sì per comprare per acquistare per fare i regali di Natale ed è una tradizione ma anche perché molti vogliono mangiare bene e di ristoranti c'è davvero l'imbarazzo della scelta che siano essi con sapori dal mondo oppure con tradizioni locali sì perché la nostra come giustamente diceva una ragazza nei social network in verità è un'esperienza la gente non viene in fiera solo per acquistare il che è interessante ma è anche una grande esperienza umana incontrare storie tradizioni volti odori sapori fermarsi con gli amici a fare una cena nei 54 ristoranti rappresentativi di tutto il mondo piuttosto che altri 5 punti di ristorazione di degustazione permette proprio di assaporare un clima di positività uno spazio di festa ma infatti fiera significa dal latino feria festa ed è questo un po' lo spirito la caratteristica credo la vera ragione di successo della nostra manifestazione è proprio questa che è una festa una festa delle culture una festa del lavoro una festa dell'umanità a cui tutti in qualche modo partecipandoci si apre il cuore e tutti sappiamo bene quanto in questo momento c'è proprio bisogno di rincuorarci per rilanciarci nella sfida quotidiana e dalle immagini si vedeva già bene dal vostro sito internet importante perché in molti iniziano già a cercare magari lo stand che l'anno scorso li aveva colpiti allora a cercare l'artigiano eccetera qui ci sono tutte le informazioni su artigiani in fiera punto it la possibilità è quella appunto di appassionarsi magari a dell'altro perché ci sono tanti eventi anche a proposito di festa cioè non solo gli stand che vendono che commercializzano che fanno vedere i propri prodotti ma davvero degli eventi che caratterizzano questo o quel momento della giornata e così anche perché gli eventi come chi ci conosce sa bene saranno come dire a random nei vari punti della fiera nella cultura africana nella cultura scozzese nella cultura italiana e in ogni punto in ogni padiglione in modo come dire in modo continuo accadranno spettacoli danze musiche possibilità comunque di un clima così festoso che consentirà a tutti voi di poter incontrare questa cultura di 113 paesi del mondo di tutta l'esperienza del lavoro di tutti i continenti del nostro gobbo terrestre ma poi di poter apprezzare i prodotti i lavori la tradizione l'umanità è un villaggio è un villaggio globale il nostro certo certo e quello che mi è piaciuto anche come iniziativa è quella di una raccolta fondi qualcosa che va ovviamente a aiutare anche i più sfortunati si parla di un sostegno ad un campo profughi siriano che sta in Libano in che modo si sarà presente un'associazione un ONG che si chiama Avsi che durante la fiera proprio raccoglierà fondi che verranno raccolti proprio per sostenere una solidarietà ai profughi siriani noi tra l'altro abbiamo in fiera alcuni artigiani siriani che vengono come abbiamo artigiani di altri paesi disastrati dell'umanità del mondo ed è un'occasione molto concreta insieme a tante altre opere sociali di carità che sono presenti in fiera per sostenere un popolo che tragicamente è in guerra ormai da anni e che ha bisogno della solidarietà di tutti noi ma lo dico per loro come tante altre opere sociali di carità cristiana e laica che sono presenti in fiera a sostenere le loro iniziative ovviamente uno sguardo particolare va anche nel sostenere i nostri amici e la nostra delegazione della Sardegna in questo momento particolare drammatico della loro vita insomma il lavoro di questi di più di 2.900 artigiani di 113 paesi del mondo è una comunicazione di umanità e quindi sia nel sostenere il loro lavoro che nel sostenere le loro fatiche è giusto che tutti noi partecipiamo noi per parte nostra creeremo tutte le condizioni i nostri sostegni anche diretti per farlo e siamo convinti che lo farà anche tantissima gente e a dimostrazione di quanto sia vicino al sociale proprio però per parlare di argomenti un po' più leggeri il sociale il social anche è uno dei modi in cui la fiera viene discussa per tutto l'anno quindi su facebook o su twitter le persone vi cercano discutono dibattono si confrontano tra loro su questo quell'iniziativa bello questo sì questo sarà una cosa che già è partita tra l'altro molti già stanno partecipando a un concorso di esperienze di idee di proposte stiamo lanciando in facebook quali sono i prodotti più belli che avete acquistato e dove li avete posizionati in casa e sta venendo fuori una vetrina di foto meravigliose con prodotti veramente fantastici così come abbiamo aperto un dibattito su qual è la comunicazione dell'esperienza che si vive in fiera e ci sono delle pagine meravigliose ci sono delle persone che hanno scritto delle cose fantastiche proprio comunicando quella che è stata la ragione ultima con cui noi abbiamo fatto questa fiera perché la ragione ultima di questa fiera è proprio poter comunicare in un mondo ormai anonimo e spesso indifferente che esiste ancora tanta umanità al lavoro carica di storia di esperienza di tradizione e quindi poter fare proprio l'esperienza della bellezza e della bontà c'è gente che lavora che innanzitutto ha davanti a sé il desiderio di poter comunicare un pezzo di sé all'altro tanto è che spesso capita che gli artigiani riconoscono coloro a cui hanno venduto il loro prodotto si ricordano spesso anche che cosa gli hanno venduto perché per un artigiano spesso quando vendono qualche loro lavoro è come dare un pezzo di sé e chi lo compra make and buy che è la nostra piattaforma e-commerce che partirà il 30 vorrà comunicare a tutto il mondo questa esperienza e chi compra in qualche modo partecipa e porta con sé un pezzo di umanità che ha incontrato in fiera e questo dice di un valore molto più grande del semplice consumo la nostra non è una fiera di consumo è una fiera che si comunica una cultura del lavoro e anche l'acquistare il valorizzare il lavoro dei nostri artigiani fa parte di un fenomeno culturale molto più grande della semplice consumazione di qualche cosa bello bello poi la possibilità come ci spiegava Intiglietta di portare anche su internet sulla piattaforma internet nel nuovo make and buy l'artigianato e quindi questi prodotti unici credo sia davvero una bella sfida ricordiamo negli ultimi minuti ancora il fatto che oltre ad essere ingresso gratuito e quindi ormai conosciuta e vengono davvero le persone da tutta Lombardia da tutta Italia ma anche oltre il modo migliore per raggiungere la fiera i giorni di apertura gli orari in modo che ciascuno si possa organizzare perché ormai le persone vengono anche un paio di volte o tre o più ricordo la grande novità potete venire in fiera dal 30 novembre all'8 dicembre tutti i giorni sarà aperta la fiera dalle ore 10 del mattino fino alle ore 22 e 30 quindi ogni giorno tutte le mattine e tutti i pomeriggi dalle 10 del mattino alle 22 e 30 vi consigliamo di venire in metropolitana o col passante ferroviario e comunque se venite in macchina potete usare dei parcheggi della fiera ma anche i parcheggi della metropolitana in particolare quelli più prossimi alla fiera cioè Molino Dorino e Lamponiano in cui il costo tra l'altro del parcheggio è molto più economico sapendo che la nostra fiera è gratuita con la grande novità dell'anno che sarà questa grande piattaforma e-commerce macandbuy.com che vi consentirà di tenere poi un rapporto tutto l'anno con i nostri 2.900 artigiani di 113 paesi del mondo e i più fortunati possono anche andare magari in orari più comodi chi riesce a venire al mattino per esempio magari se la gira un po' meglio quindi davvero dilazionare le visite è una meraviglia in quel senso ci sono momenti ovviamente anche di festa perché sono delle domeniche in mezzo sono diversi giorni però l'apertura è sempre garantita esatto garantita è sempre gratis e dalle 10 alle 22.30 ristoranti sempre aperti punti ristoro e così via prendiamo una telefonata pronto? si pronto buonasera 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 sono Francesca prego Francesca io volevo sapere un pochino meglio di cosa si tratta Make & Buy perché ho visto il logo non ho capito bene se una nuova fiera tipo artigiano in fiera oppure un altro progetto grazie grazie se fosse come artigiano in fiera sarebbe fantastico è così e io sono lì tutti i giorni a lei ci va tutti i giorni brava la ringrazio per la domanda è proprio così sarà l'artigiano in fiera tutto l'anno per cui tutti i prodotti che lei vede e tutti i prodotti che non è in grado di comprare o tutti i prodotti che lei vorrà comprare durante tutto l'anno non soltanto nei 9 giorni dal 30 novembre all'8 dicembre lei li potrà comprare ma non solo lei potrà scoprire la storia dei nostri artigiani potrà vedere il laboratorio dove loro vivono potrà vedere i loro prodotti che ovviamente nel corso dell'anno potranno anche modificarsi potranno essere anche innovati quindi è proprio l'idea a ragione lei di fare l'artigiano in fiera tutto l'anno non soltanto 9 giorni i 9 giorni sono dei momenti particolari anche di relazione e di rapporto ma si potrà continuare questo rapporto tutto l'anno ma non solo per lei ma per tutti quelli che in tutta Europa vorranno incontrarci e via via per tutto il mondo è la bellezza di quello che vediamo lì che deve diventare la vera scommessa per i nostri piccoli artigiani per battere la concorrenza delle multinazionali una scommessa che inizierà il 30 di novembre in concomitanza ovviamente con l'apertura della fiera dal 30 di novembre all'8 dicembre io ringrazio e saluto Antonio Intiglietta grazie a voi il presidente GF SBA che tornerà a trovarci per ulteriori dettagli di questo grande appuntamento martedì prossimo grazie davvero ci fermiamo con questa prima parte del fatto del giorno nella seconda parte invece scopriremo grazie a un rapporto tradizionale che a Milano viene redato ogni anno come sta Milano qual è la qualità della vita a Milano tra poco